I viaggi di Giovannino Pertigiorno, Gianni Rodari Il paese del Nì Giovannino Pertigiorno, viaggiando da qui a lì, capitò per combinazione nel paese del Nì. In quel paese la gente era timida un bel po' e non diceva mai chiaro, né di sì né di no. Volete il pesce? Nì. Volete la carne? Nì. Ma tutte le domande rispondevano così. Ma che razza di indecisi, Giovannino si stupì. Volete la pace? Nì. Volete la guerra? Nì. Ditemi perlomeno se vi piace vivere qui. Per quelli abbassarono gli occhi e sospirarono. Nì. Giovannino Pertigiorno ben presto si stancò. A questo insulso paese io dico tre volte no. Buon. Grazie.